Musica Siamo a Maranello in provincia di Modena e siamo al centro tecnologico di Heller Italia. Con noi c'è Giampaolo Pesavento, responsabile commerciale di Heller Italia e a Giampaolo Pesavento chiediamo di illustrarci la FP4000 e soprattutto di raccontarci perché nasce questa macchina. La serie FP nasce sulla base dell'attuale piattaforma H dei centri di lavoro orizzontali Heller per rispondere a delle specifiche esigenze dell'utilizzatore dei centri di lavoro orizzontali con l'introduzione della testa a 5 assi. Parliamo adesso di mercati di destinazione sia in termini tecnici che in termini geografici. I settori di riferimento a cui si rivolge la serie F sono tipicamente la costruzione di componenti di macchine, quindi la meccanica generale, la produzione di componenti per il settore dell'energia, l'aerospace e il settore dell'elaborazione degli stampi, dove l'Italia storicamente ha numerosi utilizzatori, il segmento ampio di utilizzatori di questo tipo di centri di lavoro può contare su un prodotto Heller perfettamente integrato con la piattaforma H attualmente in produzione. FPD-L è una serie di macchine per il momento disponibili in due taglie, 2000 e 4000. Esistono due tipologie di versioni, una macchina senza cambio pallet e una macchina con cambio pallet. Due tipologie, due taglie, con una corsa di lavoro 630 mm per la 2000, 800 mm per la 4000. Le due varianti sono esattamente uguali da un punto di vista strutturale, cambiano solamente le corse e le dimensioni massime delle attrezzature e l'ingombro dei pezzi che possono essere ospitati sulle macchine. L'integra all'interno del basamento, nella versione col cambio pallet, anche tutta la struttura dello scambiatore. La tavola ha l'asse Z, il montante possiede l'asse X e la testa l'asse Y. Scambiatore utensili e magazzini laterali del tutto simile alla variante H oggi in produzione. Ha due tipologie di testa, una testa C con asse inclinato di 45 gradi rispetto all'asse verticale YZ e una testa tiltante che è un vero e proprio asse A, con comando diretto attraverso Direct Drive che aziona l'asse A della testa. Mandrini, tre configurazioni disponibili su entrambe le tipologie di testa, mandrino con trasmissione meccanica ad alta coppia, mandrino intermedio speed da 16.000 giri o un elettromandrino ad alta velocità da 24.000 giri. Automotive, aerospaziali, stamping, sono tutte soluzioni che richiedono necessariamente o comunque consigliano di avere controlli numerici diversi. Voi come vi siete apprezzati da questo punto di vista? Due tipologie di controllo numerico, il Siemens 840D Solution Line con la piattaforma completamente integrata con la serie H e l'Idenite ET&C 530, che è una variante invece più adatta all'utilizzatore che oggi ne fa nel settore degli stampi, delle lavorazioni delle forme, nel settore dell'aeronauti. Siamo davanti alla FP4000 e questa è una tabella che riassume velocemente le caratteristiche, direi, notevoli di questa macchina. Signor Pesavento, puoi illustrarcele un pochino più da vicino prima poi di dedicarci all'area di lavoro? Le caratteristiche principali e più importanti di questo centro di lavoro sono le corse 800-800-1000 sui tre assi, dimensioni massime delle attrezzature diametro 900 per altezza 1000, peso massimo sul piano pallet 1400 kg, la possibilità di utilizzare una tavola a tornire fino a 1000 giri al minuto e una testa mandrino, in questo caso con trasmissione meccanica, una coppia massima di 240 Nm, quindi una testa dedicata all'asportazione. Signor Pesavento, ha parlato anche di tavola rotante, quindi la possibilità di tornire con questa macchina? Sì, la serie F può diventare una macchina cosiddetta multitasking, quindi in grado di utilizzare degli utensili di tipo HSK63 adattati anche per la tornitura e la tavola trasformata in una tavola di tornitura verticale con una capacità di 1000 giri al minuto e una coppia di 1500 Nm.